I Mongoli sono sulla difensiva. Dobbiamo attaccarli prima che si riprendano e vinceremo. Mi hai mandati a morire. Sono soldati. Abbiamo le mani sporche di sangue. C'è un modo per superare il punte, avvelenando il nemico. È terrorismo. Voglio salvare la nostra gente. Insegnando loro a temerci. Se continui per questa strada, non sarai migliore dei Mongoli. Io ti ho insegnato a lottare con onore. L'onore è morto a Komoda. Il Khan deve soffrire. Sei preda delle tue emozioni. Ho sacrificato tutto per la nostra gente. Io gli ho dato speranza. Tu niente! Jhin! No. È finita. Lord Sakai. Stanno riparando il ponte su ordine di tuo zio. Lord Shimura vuole seguire il suo piano a tutti i costi. Non importa quante vite costerà. Questa gente è qui che lotta. Per te. Quanto strozzalupo riesci a trovare in un'ora? Qualche mazzo. Dì agli altri di raccoglierne il più possibile. Vuoi avvelenare i Mongoli? Mi infiltrerò nel castello e glielo farò bere. Voglio vedere il Khan strozzarsi col suo sangue. Tuo zio lo scoprirà? Lo so. Taka stava preparando una cosa per te. Non lo so se la vuoi, ma... Beh. Se ti dovesse... Non succederà. Vorrebbe che l'avessi tu. Questo è tutto lo strozzalupo che c'è. È sufficiente? Me lo farò bastare. Se raggiungo quella torre, troverò i soldati del Khan e capirò come avvelenarli. Sì, sì. Grazie a tutti. Uccido le guardie senza far rumore, poi parto dall'ultimo piano. Uccido le guardie senza far rumore, poi parto dall'ultimo piano. Un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte. La torre è libera, ora devo capire come avvelenarli. Un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte, un'altra parte. Ora facciamo libera il veleno al banchetto. Un'altra parte, un'altra parte. Tengono qui le scorte di latte. Versiamo il veleno. Ora aspettiamo. Un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte. Jin! Dov'è Ilkan? A nord. Mi ha fatto restare per prendere la testa dello spettro. Allora vieni a prenderla. No. Avrei potuto ucciderti. Invece ho convinto Ilkan a darti una possibilità. Ho ucciso Taka! E tu hai ucciso i miei uomini. Ho perso tutto. A parte te. Possiamo sconfiggere i Mongoli insieme. Dopo tutto ciò che hai fatto! Dì alla gente che ero la tua spia. Che dovevo farmi amico Ilkan. Crederanno allo spesso. Basta! Ci conosciamo da una vita, Ryuzo. Arrenditi. E rispondi dei tuoi crimini. Per il nostro bene. Non posso. Dovevi arrenderti. Non morirò per mano di tuo zio. Non mi fermerai, Ryuzo. Quel veleno infrange il codice di tuo zio. Non avevo altra scelta. Non ti perdonerò mai. Non mi fermerai. Ah! Jinn. Ti prego. Addio, Ryuto. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Ryuto. Bene. Il castello è tuo. Il Khan va a nord. Lo fermeremo. Mi hai sfidato. Ho dovuto farlo. Per loro. È così che vuoi essere ricordato. Ci ha difesi. Seminando il caos e la paura. Siamo in guerra. E ti comporti come il nemico. Non è il nostro codice. Il tuo codice non può salvarci. Lo shogun esigerà una testa. Ma non deve essere per forza la tua. So bene chi ti ha convinto. Zio. Rinuncia allo spettro. Lei deve essere incolpata di questo scandalo. Di che... Tu sei Jin Shimura. Servo fedele dello shogun. Il mio erete. Mio figlio. Non sono tuo figlio. Sono lo spettro. E sarai condannato per questo. Trova il Khan. Jin. Per Daka. Vai! Inca! Grazie! Inca! Inca! Noi.